Per la prima volta è arrivata a Milano questo mitico festival degli artisti di strada che si chiama Stra. Ho preso la mia guida e mi sono fatto un giro insieme al P8 Lite. Vediamo che cosa sono riuscito a catturare. Bravo! La gente molto spesso mi chiede se questo esercizio fa molto male. I tuoi genitori potevano portarti via ma non l'ho fatto! Ok! Allora! Grazie! 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 Grazie!